Non ci sarebbe coinvolgimento delle comunità magrebine nella presenza nella piana del sede di Afia Abed Raham, il marocchino di 29 anni arrestato a Lido Lago sulla litorania di Battipaglia, alla fine di un'indagine che ha visto coinvolto antiterrorismo, digos di Napoli e Salerno, Aisi e servizi segreti marocchini. L'uomo che aveva combattuto in Siria, prima nelle file di Al-Uzra e poi dell'Isis, dove aveva ricoperto la carica di responsabile militare, non aveva contatti con le comunità magrebine presenti in zone ed impegnate soprattutto nel lavoro dei campi. La presenza di questo terrorista non è legata a un particolare insediamento di immigrati in una determinata parte del territorio. Noi monitoriamo continuamente gli ingressi e le uscite dal territorio, noi abbiamo sempre la situazione sotto controllo ed è casuale che sia stata quella la zona del territorio dove è stato arrestato, ma non è assolutamente legata alla presenza di determinati immigrati che si trovano in area di questa provincia. Nei confronti del 29enne terrorista che ora si trova nel carcere di Salerno a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa dell'estradizione, c'era un mandato di cattura emesso dal procuratore generale presso la Corte d'Appello di Rabatti in Marocco il 28 giugno ed è esteso a livello internazionale l'8 luglio. Sul suo arresto vige ancora il massimo riservo. Dettagli non ne possiamo fornire, ovviamente come potete immaginare la materia è abbastanza delicata e riservata. L'arresto solamente dimostra appunto che il monitoraggio è continuo nei confronti delle attività in direzione della sicurezza antiterrorismo e la collaborazione internazionale è stata fondamentale in questo caso. Fortunatamente noi siamo riusciti a identificarlo dopo la segnalazione delle autorità marocchine e l'arresto è stato compiuto in sicurezza massima.